buongiorno a tutti iniziamo questo vlog da in camera che sono mi sono lavati i capelli meglio perché me ne sono lavati di sera ma ero tardi molto tardi per cui non li ho lavati molto bene stamattina li ho rilavati e adesso visto che sono ancora in tuta da casa con il pigiamone mi vesto e vado a fare la spesa devo comprare il pane perché oggi sono a casa da sola e farò un po' di pasta non so ancora bene se allora lo metto qui magari riesco a guardare tranquillamente non so ancora bene con magari con il sugo e il tonno il sugo e tonno insieme non lo so o se no il salmone con il salmone però anche volendo devo andarlo a comprare però adesso mi vesto e vado ci vediamo più tardi come sono vestita allora sono uscita adesso andando al calo mi comprerò qualcosa del tipo il salmone per comire la pasta perché mia nonna non aveva sugo questo è il dramma di quando sei abituato al sugo in casa che poi non riesci più a mangiare quello fuori c'è lui lo mangio ma ti fa schifo per cui niente e poi adesso vedo punto qualcosa l'altro e vado cioè non ci sono mai macchia qui adesso c'è un casino vabbè ci stiamo invitati quando è più sotto tutto un po' più tranquillo allora per adesso ho preso solo le sigarette e basta adesso mi vado a prendere un caffè perché anche se non ho già preso uno sono andata a dormire tipo una cosa tipo alle 3 e alle 9 ero già sveglia per cui ho abbastanza sonno comunque voglio solo dire che qui nel mio casino non lo cagmai nessuno oggi c'è cioè è pieno così è pieno comunque poi alcune volte alcune persone mi riferisco perché avevo commentato ieri una foto della diva del tubo non ieri tra ieri e l'altro ieri e mi aveva scritto delle cose e uno mi ha risposto che io come sono dovrei invidiarla non confondiamo l'invidia stavo dicendo non confondiamo l'invidia con l'ammirazione che sono due cose completamente diverse e hanno due significati completamente diversi mi raccomando allora devo ancora prendere il caffè in pratica sono andata a fine in stazione perché c'era un po' che l'ho metto c'era un po' che mi interessava e boh per cui sono andata e come sempre trenitalia è in ritardo non so se si vederà c'è solo un treno devo arrivare quello che va a Pinerano che puntualmente è cosa strana sempre quello è in ritardo e non faccio commenti veramente trenitalia la puntualità non esiste per trenitalia la puntualità non c'è allora mi scuso già se senti dei rumori ma ho tutti i ventilatori più o meno accesi perché fa veramente veramente caldo cioè si sta morendo io sono uscita che momento ci voleva una felpa e sono ritornata che ho la pelle che è veramente lucida soprattutto infatti cioè ho la pelle della faccia lucida perché si sta veramente sudando tanto infatti tra un po' credo che mi vada un attimo a sciacquare perché sennò muoio e boh intanto ho fatto la spesa che ho già messo tutto a posto e non so se l'avevo detto prima non sapevo che pasta fare se tra la pasta al tonno o tonno al sugo o salmone ho ripiegato sulla pasta al tonno normale infatti tanto non credo che ne farò tanta anche perché non ho molta fame e sono da sola e boh in progetto oggi ho da fare due video di sicuro oltre al vlog che dovevo fare diciamo che il vlog è un di più mettiamolo così perché se no non avrei saputo che video mettervi mettiamolo così e poi volevo dire che poi dal 25 in poi sperando di trovare un wifi dovrebbero esserci i vlog o comunque il weekly della Puglia perché vado due settimane in Puglia con i miei e boh per cui almeno due video ce li ho in programma poi per quando sono giù spero di riuscire a fare altri video da comunque magari tappare il i buchi se non faccio giornalmente un vlog e boh adesso mi lascio un attimo guardo un po' di tele tanto sono le 11 e 10 e per cui anche quando per fare pranzo c'è ancora tempo allora ho fatto un il video del make up infatti sono ancora truccata infatti stavo pensando di struccarmi e fare altri video make up e adesso vedo nel senso che magari la clip della base cioè tipo fondotinta cipria e correttori la userò in tutti i video perché alla fine è sempre quella la mia base per cui non è che cambio da un video all'altro però magari cambio blush adesso devo vedere quanti blush ho e vedo al massimo poi prendo faccio metto la cipria fondotinta e quella è una clip poi metto faccio una clip due con i blush dipende anche quanti blush ho se ne ho due faccio due clip con il blush cioè mi strucco e poi rifaccio quello allora sto facendo cena pollo con delle verdure adesso mi riempio la mia borraccia questa qui che l'ho comprata se non sbaglio da tiger con dell'acqua lascio solo un attimo così non ho problemi perché prima ci avevo messo la coca cola essenzialmente acqua la coca cola non mi va anche perché non mi piace percorso ci ho fatto e poi corro a mangiare ah come spero che alla live di stasera anche se non ho messo niente ci state in conto se non riesco a caricare i video nel senso che il wifi qui non collaboro e non mi fa caricare in 3g per cui anche volendo ho paura che poi magari quando sono in puglia e niente la casa non ci sia il wifi ho paura che non riesco a caricare i video magari 3-4 video li metto così almeno meglio 4 così si hanno due video la settimana e un po' di acqua e adesso guarda magari se c'è un po' di menta ci vediamo più tardi quando ho finito di mangiare a un po' Grazie a tutti